Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura sempre l'emergenza sanitaria. Da oggi la campagna torna in zona arancione. Riaprono gli esercizi commerciali e i servizi alla persona come barbieri e parrucchieri. Abbiamo raccolto le voci di alcuni esponenti della categoria Torre del Greco. Si riparte con fiducia ma serve maggior senso di responsabilità da parte dei cittadini e controlli delle istituzioni. Non mancano anche i commenti dei cittadini torresi sulle nuove riaperture. Spazio poi anche alla cronaca. Maxi operazione dei carabinieri nel napoletano alle prime luci dell'alba. 46 persone sono finite in manette e sequestri per 50 milioni di euro. In chiusura lo sport con la Turris. Gara con la Cavese rinviata al prossimo 28 aprile. Dopo i numerosi casi Covid nella società corallina non è mancato il disappunto della squadra avversaria. Questo e molto altro. Guardiamo i servizi. Da oggi la campagna torna in zona arancione. Il miglioramento nel corso dell'ultima settimana dei parametri tenuti in considerazione dalla cabina di regia del governo hanno consentito il declassamento della regione. Inoltre, fino al 15 maggio è consentita l'apertura degli esercizi commerciali e dei servizi alla persona, quali i barbieri, parrucchieri e estetisti. Apertura a pubblico consentita dalle ore 7 alle ore 21 e 30 e senza obbligo di chiusura domenicale o settimanale. Misura, spiega il governatore Vincenzo De Luca, per agevolare la fruizione dilazionata da parte degli utenti, evitando affollamenti. Norme che saranno valide fino al 26 aprile. A partire da quella data, il governo ha annunciato una vera e propria ripartenza che, secondo il Presidente del Consiglio Mario Draghi, si tratta di un rischio calcolato. Ripristinata anche la zona gialla, dopo oltre un mese di stop. Novità sullo spostamento tra regioni, che potrebbe prevedere l'introduzione del pass, valido tra regioni con stessa fascia di rischio. Il certificato, secondo le ultime indiscrizioni, potrebbe essere accessibile da chi rientra in uno dei tre seguenti parametri. Il primo, che prevede l'immunità con la vaccinazione. Il secondo, che richiede un tampone negativo entro le 48 ore dalla partenza. Il terzo, che riguarda chi è già stato positivo al Covid entro una determinata fascia temporale. Didattica in presenza in zona gialla e arancione per tutte le scuole, mentre in zona rossa è prevista la didattica a distanza al 50% per le scuole superiori. Novità anche per bar e ristoranti. In zona gialla, dal 26 aprile a tutto il mese di maggio, sarà possibile pranzare o cenare solo nei luoghi di ristorazione con tavoli all'aperto. Dal 1 giugno si mangiano i ristoranti con tavoli al chiuso solo a pranzo. In zona arancione sarà mantenuta la sola possibilità di asporto, così come quella in rossa. Le riaperture, precise il Premier Draghi, sono una risposta al disagio di categorie e giovani e portano maggiore serenità nel paese e pongono le basi per la ripartenza. Riaprono da oggi centri estetici, parrucchieri e barbieri che denunciano mancato sostegno da parte delle istituzioni durante la zona rossa. A Torre del Greco si riparte con fiducia, confidando nel senso di responsabilità dei cittadini i maggiori controlli. Oggi si riparte con molta agitazione perché comunque questi ultimi 40 giorni sono stati difficili per tutti noi perché non siamo stati neanche tanto aiutati, però si riparte con tanta fiducia. Crede che sia una riapertura definitiva a questo punto? O c'è il rischio che magari si possa ritornare nuovamente indietro? Non sono certa che questa possa essere una riapertura definitiva perché ho perso un po' le speranze, visto che io comunque sono la titolare di un negozio che ha aperto l'anno scorso l'8 marzo ed è stato chiuso il 9. Tre mesi di chiusura abbiamo riaperto a maggio per poi fare grandi sacrifici per poter recuperare e poi questa nuova chiusura ci ha completamente buttato giù. Dobbiamo essere noi attenti perché noi nei negozi siamo stati chiusi ingiustamente perché noi nelle nostre attività riusciamo a mantenere la distanza e a mantenere la sanificazione continua e il rispetto per le regole. Quindi io credo che si debba guardare un po' più all'esterno che all'interno. Quali sono stati i supporti da parte dello Stato in queste settimane di chiusura? Sono stati praticamente zero. Io ho due negozi, questo e l'altro che sta più al centro, che comunque non ha ricevuto neanche un euro. Cosa si aspetta dalle prossime settimane? Mi aspetto un po' per tutti che ci sia un po' più di tranquillità e serenità perché veramente questo virus ci ha praticamente cambiati e faccio gli auguri a tutti i commercianti e gli artigiani che come me vivono alla giornata. Come sono state queste settimane senza dubbio difficili? Le settimane sono state difficili perché non abbiamo avuto un supporto economico, abbiamo dovuto continuare a pagare le spese che ci sono per la gestione e logicamente è stata difficoltosa. Spera che questi supporti possano arrivare nei prossimi mesi? Più che un supporto spererei di un rilancio dell'economia perché diciamo in quanto imprenditore a me fa piacere che possano far sviluppare l'economia in senso totale perché i supporti relativi, quello di dare dei finanziamenti, meglio dare lavoro a tutti per poter far sì che l'economia riparta nel modo giusto. Chiusure che hanno incentivato l'abusivismo? Sì, in realtà è stato proprio questo il problema perché le attività professionali sono state chiuse e l'abusivismo è stato ancora più dilagante e logicamente non si può far sì che si penalizzano i canali ufficiali, cioè le attività ufficiali a favore di questi abusivi. Lei è fiducioso per le prossime settimane? Lo spirito dell'imprenditore è sempre positivo, nel senso che non puoi essere un imprenditore se non c'è lo spirito di, diciamo, che vada tutto bene. Questo è proprio me sicuro perché se no non si può proprio intraprendere nessun tipo di attività. La campagna ritorna in zona arancione, cosa ne pensa? Allora, in questo momento qui era fondamentale cambiare perché qui se non moriamo per quanto riguarda il virus moriremo di fame. Io sono l'uditore del greco, appartengo a una categoria che la maggior parte andiamo per mare. Con le regioni chiuse, soprattutto Sardegna e tutto in russo, il nostro lavoro praticamente è fermo e quindi per quanto riguarda il mio compendio lavorativo se arrivo a Torre del greco fra i 6.000 e 7.000 lavoratori che rimangono a casa. Torre del greco prima aveva tre classi sociali, una ricca, una media e una povera. La persona media, soprattutto a cui appartengo io, stiamo andando verso il basso perché non ci sono più entrate economiche. Il sociale non ci aiuta perché noi marittimi, io appartengo alla categoria catering, siamo come dei veri e propri fantasmi. Per quanto riguarda bonus, ammortizzatori sociali, non esistiamo. Quindi io voglio fare una domanda a lei e a chi ci segue. Ma allora, forse è diventato il gioco dei colori, ma dietro a questi colori ci sono delle vite, qua la situazione è veramente grave. Credo che non sia cambiato nulla perché comunque vedo persone per la strada, li vedevo anche prima. Spero per i commercianti che praticamente riescono a incassare qualcosa per loro perché comunque stanno dei settori, secondo me, ingiustamente fermati. Quindi lei non nota nessuna sostanziale differenza tra zona rossa e zona arancione? Purtroppo non si è rispettato come la prima ondata. La prima ondata veramente non c'era nessuno in mezzo alla via, cioè si scendeva una volta al giorno. Cosa pensa di queste riaperture annunciate per il 26 aprile dal presidente Draghi? Insomma, molte delle attività riapriranno. Cosa ne pensa? Per me è giusto aprire, però sempre con molta attenzione. Non si deve fare che si lascia praticamente tutto come se niente fosse. Bisogna sempre stare attenti perché secondo me ci vuole ancora tempo per passare questa brutta bestia. È giusto per quei commercianti come il settore dell'abbigliamento, calzaturificio e tutti gli altri che erano costretti a stare chiusi a meno che si riprenda un po' il discorso commerciale di vendita. Per quanto riguarda la problematica di salute, io penso che era meglio che si fosse restato ancora in zona rossa, almeno fino a fine mese, per vedere un po' l'andamento della curva dei contagi. Sono i numeri e i contagi che ci potranno dire se questa scelta di ritornare a Arancione è stata una scelta giusta, non azzardata o diversamente. Il Premier Draghi quando parla delle riaperture dal 26 aprile parla di rischio calcolato, è d'accordo? Ne parlano gli esperti di questo rischio calcolato, che è meglio stare all'aperto per quanto riguarda i ristoranti, mangiare all'aperto, che c'è un rischio inferiore. Ripeto, dobbiamo solo aspettare e vedere se effettivamente è così. Campania oggi di nuovo in zona Arancione, quali sono le sue considerazioni? Mi sembra che non ha cambiato niente, perché pure in zona rossa, penso che a sabato c'era un traffico enorme. E come sta andando la ripresa delle scuole? In questi giorni ci sono stati ulteriori casi nelle scuole di Torre del Greco. Lei da insegnante cosa ci può raccontare di questi giorni di ripresa? Io sono sereno come i miei colleghi, che pure le ragazze. L'importante è rispettare le distanze, avere la mascherina, lavarsi bene le mani, insomma tutto il protocollo che c'è da fare. Il virus non è passato ancora. Insomma bisogna agire con cautela. Se no torniamo di nuovo indietro e non esiste. Duro colpo alla criminalità organizzata nella città di Poggio Marino e nei comuni limitrofi. 26 persone finite in manette. Sequestri per circa 50 milioni di euro. Dalle prime luci dell'alba, infatti, i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno eseguendo nelle province di Napoli, Salerno, Imperia, Cosenza, Ancona e Reggio Emilia un'ordinanza di applicazione della misura di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli. L'ordinanza nei confronti dei 26 soggetti gravemente indiziati a vario titolo di aver fatto parte di due distinte organizzazioni criminali operanti su Poggio Marino e nei comuni napoletani limitrofi in lotta tra loro per l'egemonia sul territorio. Al sodalizio storicamente presente su quel territorio riconducibile al clan Fabbrocino si è affiancato e contrapposto a una nuova entità criminale con l'obiettivo di ricercare autonomi spazi delinquenziali. In tale contesto sono state documentate attività connesse con numerose estorsioni ed intimidazioni con esplosione di colpi d'arma da fuoco e un importante traffico di sostanze stupefacenti accertando canali di approvvigionamento anche con l'endrine calabresi. Contestualmente è in atto un sequestro preventivo di beni e rapporti finanziari per un valore complessivo stimato in circa 50 milioni di euro. Touris, spettatrice interessata di questo turno di campionato appena concluso. Nel pomeriggio di sabato la Lega Pro ha colto la richiesta da parte della società corallina di usufruire del bonus Covid in vista dello scontro contro la Cavese dati recenti casi positivi all'interno del gruppo squadra. Rinvio fissato il prossimo 28 aprile quando il focolaio dovrebbe essere contenuto e scongiurato definitivamente. Scenario che non è andato giù alla squadra di Cava dei Tirreni che ha palesato il suo disappunto attraverso una nota inviata alla federazione. Un simile rinvio recriminano i metelliani e esporrebbe la Cavese all'ennesima superiore difficoltà nel corso di questa stagione. La data del 28 aprile, infatti, costringe la Cavese a dover affrontare l'importantissimo match contro i Corallini senza praticamente una seduta di allenamento effettiva nelle gambe. Intanto, la concentrazione della squadra di Torre del Greco è volta già al match casalingo contro il Bari in programma il prossimo 25 aprile alle 17.30. Turno di campionato che si giocherà interamente in contemporanea e che sarà sicuramente ostico per i ragazzi di Bruno Caneo che hanno nel mirino la salvezza e che sono padroni del proprio destino. Queste ultime partite di fine stagione saranno una vera e propria caccia all'aritmetica salvezza. L'obiettivo è alla portata, considerando lo sconto diretto contro la Cavese ed il più che positivo bilancio dei precedenti contro il Bari. Servirà, in ogni caso, non abbassare la guardia con la speranza di poter racimolare un risultato positivo contro la compagine barise. Traguardo non facile da raggiungere, ma certamente non proibitivo. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro Tg. Vi ricordo che potete contattare la nostra redazione per info e segnalazioni inviando un'email all'indirizzo redazione-tvcity.it o chiamare al numero 340-6561-484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.